Erika De Matteis, influencer, già Miss Universe Italia 2018, co-conduttrice dell'Infoestetica Dei, è condotto con qualcuno, con chi? Ma non lo so, si chiama, mi sembra Giancarlo, mi hanno detto bravino, bravino, simpatico, diciamo che non è piaciuto così tanto, quanto te ovviamente, quanto me ovviamente no, però che dovevamo fare, quello avevamo e quello ci teniamo. Allora Erika, raccontami un po', perché tu non sei stata sempre modella, perché tante modelli iniziano proprio da piccolissime, iniziano proprio a voler fare modella a 14-15 anni, si preparano, iniziano a fare le prime sfilate, le prime fotografie, tu no? Da piccole, piccole, no, io cantavo. Tu cantavi? Canti ancora? Io cantavo, canto ancora ovviamente in maniera diversa, io cantavo, io prima cantavo, ho cantato anche con la Disney, quindi mi sono fatta un po' di esperienze nell'ambito della musica, studiavo anche musica e poi non so perché, mi arrivò una richiesta di partecipare a un concorso da alcune persone che mi avevano vista ad un'esebizione canora, rifiutavo, 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 fino a che alla fine ho detto vabbè, proviamo, e è andata bene, da lì è andata… A che età questo? Ma avrò avuto, non so, 18 anni. 18 anni? 18-19. Prima cosa facevi? In generale, nella mia vita? Che tipo eri? Cosa facevi? Lavoravi, studiavi? Lavoravo, lavoravo, ho fatto i lavori più disparati, cioè proprio tutti i tipi di lavoro che potevo fare l'ho fatti. Ma come tipo, com'eri? Così, bellissima, tutta in tiro, super figlia? No, ma io, beh, adesso mi stai vedendo così, mi vedi, cioè sono proprio una ragazza tranquillissima, alla mano, quindi sono sempre stata così tranquilla, serena. Poi cantavo, cantavo, facevo sport, che comunque mi piace tantissimo, studiavo e lavoravo, lavoravo tantissimo. Ci sono stati alcuni lavori che ho fatto che mi hanno portato a stare fuori anche magari sette giorni su sette, lavoravo tanto. Ok, e adesso stai ancora studiando? Sto finendo, ho quasi finito, sì. Che cosa? Scienze dell'educazione. Scienze dell'educazione? Che non c'entra molto. Quando imparresti domani a essere una maestra? Ma non è proprio quello che voglio fare, in realtà. Sto finendo la laurea perché vorrei prendere il master poi in marketing e comunicazione. Ok. Quindi c'è un doppio fine, non mi vedo a fare la maestra. Quando ero più piccolina sì. Non hai l'aspetto classico della maestra? No, ma io sono... Non ci sono maestre così, però... Io ho capito di essere una persona che comunque vuole sempre cambiare e vuole sempre avere stimoli nuovi. Quindi magari il lavoro nello stesso posto, la giornata scandita nello stesso modo, è una cosa che mi rende nervosa, ansiosa. Quindi non mi vedo a fare la maestra, ma mi vedo sicuramente a far evolvere il lavoro che faccio attualmente, magari passando dall'altra parte. Quindi perché no, gestendo proprio delle campagne pubblicitarie di aziende. Ah ok, bene, bene. Belli obiettivi. Sì, dai. E invece in un futuro più prossimo cosa ci possiamo aspettare? Oltre ai prossimi Infoestetica Day, che faremo a Roma, a Milano, a Bari, abbiamo sacco di date. Poi lo diremo in futuro. Adesso non li spoileriamo però. Non spoileriamo. Altre cose? Allora, adesso la prossima settimana sarò ospite alla Fashion Week di Milano. Sfilerai? No, sono ospite. Io vado come un influencer. Non mi piace molto come parola, però vado in veste di... Mi godrò la sfilata, seduta, bella carina, tutta simpatica. Quindi mi faccio la settimana, gli eventi, in tranquillità. E' molto bello. E' frenetica come settimana, tanto frenetica, però è bella. Vai, allora ti faccio i miei complimenti. Grazie. Non solo perché sei bellissima, ma anche perché sei simpatica. e sei sempre disponibile. Quando ti si fa una domanda, tu ti metti a proprio agio l'altra persona e tenti di rispondere. Perché tante modelle, tante belle ragazze come te non vogliono. Non se la tirano. Non se la tirano. No, 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 io. Quindi grazie, Erika. Grazie a voi. E a presto. Grazie a voi. Grazie a voi.